Servizio Zona Delivery Non solo puoi effettuare la spesa online, ma puoi anche programmare la consegna presso l'indirizzo da te scelto. Una volta aggiunti i prodotti al carrello, seleziona l'opzione Delivery. Scegli l'indirizzo di consegna, la data, l'orario e la modalità di pagamento. Se scegli l'opzione Paga dopo, verranno applicate le condizioni standard di pagamento a te riservate. Ogni ordine sarà evaso entro 24 ore.